buongiorno a tutti allora oggi ho deciso siccome sto a casa la sola con questo qua e siccome sto a casa la sola ho deciso vabbè facciamo un romo tour anche se vabbè penso che non vi interessi però giusto per fare un video non mi andava di truccarmi quindi allora incominciamo dall'ingresso questa è la porta lasciate stare le scritte erano nel periodo ben povin chiuso questa era la stanza di mia sorella però come se vedete scritta francesca che è di mia sorella sostanza allora da questo lato c'è la scrivania dove scrivania barra posto di trucchi qua ci sono tutti i miei trucchi se volete una make up collection ditelo lasciate un commentino ora queste sono tutte le cose qua ci sta lo specchio qua da questa parte ci stanno diciamo i teen angels quelli che una volta erano i teen angels poi qua su questo scaffale ci sono una marea di roba libri sia miei che di mia sorella la crema diciamo tante cose tra cui diciamo il libro di eri con la di di colpa delle stelle però sarebbe questo qui questo qui che però ce l'ho iniziato ma mai finito poi sono alcune foto altri libri di mia sorella poi qui c'è questo suo poggiapiede diciamo sì e questo bel bel micione bianco poi c'è qua la terrazza ecco qui il cielo poi andando da questa parte ci sono altri altri posti dei teen angels l'ho fatto di mia sorella da piccola un cuoricino poi qua ci stanno il poster se vi ricordate quella della telenovela flor poi qua ci sono altre foto di attori ci qua sono questi attori belli alcuni di gli altri altri un po' tutti poi qua ci stanno questo è l'armadio che sono sia i vestiti miei che dei miei ovviamente ovviamente non posso tenere un'arma tutto mio qua ci stanno tutti i poster diciamo non proprio poster però diciamo sono quelli là che dei cioe che si possono pure staccare poi andando di qua qua c'è la televisione qua vedete le cuffie prese dai cinesi le telecomande poi qua sotto c'è una marea di roba fogli e quaderni diciamo roba per l'università qua sono dei pesi che usavo l'anno scorso quando mi sono fatta male il ginocchio poi vi racconterò poi qua c'è uno stereo vecchio di mia sorella ovviamente molto stile anni 90 ti adoro poi qua c'è un'altra finestra adesso non vi apro perché qui c'è gente poi qui è una sedia vabbè lasciate stare il casino qua c'è questo scaffale ci stanno altri libri miei dell'università vabbè questo qua questo smalto questo smalto qua vabbè di la chico questi qua sono quick dry quelli la che si asciugano velocemente non so perché sta qua però va bene poi qua c'è diciamo un diario che uso per scrivere cavolate mie poi qua c'è il lato smalto c'è il lato unghie barra profumi infatti qua ci stanno tutti gli smalti in questo in questa pochettina qui poi c'è il cotone per togliere lo smalto il fissatore questo qui della chico altri struccanti questo qua è uno struccante questo qua è un leva smalto e roce poi questo è per pulire i pennelli mai usato un pochettino poi qua gioielli poi una penna c'è una matita qua dentro ci stanno altri gioielli poi questo è il letto il mio grande letto i fazzoletti ci sono i fazzoletti il cellulare altre cuffie poi qui questo come ci sono molte cose ci stanno questo quadernino dove ci scrivo tante cose mie cavolate mie poi diciamo questo questo portaocchiali questo portaocchiali della Ray-Ban delle Ray-Ban gli occhiali da vista poi questi sempre dei Ray-Ban però occhiali da sole la Bajour un cellulare vecchio una lima delle degli elastici poi ci sono delle delle creme che non uso mai un'altra lima delle gocce per il naso poi qua sotto ci sono altri quaderni poi questo è per riscaldarmi poi ci sta un un dizionario di inglese si pensa sia inglese si che usavo al liceo ci ho usato un po' di volte poi il portapenne poi questo questo giugio bianco e il computer poi ci sono tutti la mia acqua ovviamente perché io devo stare sempre con l'acqua vicino perché mi scoccio un po' mi scoccio a scendere quando viene sete quindi ho l'acqua già vicino poi qui ci sono tutti tutti carica batterie questo qua nero è quello del computer poi c'è quello là del cellulare e quello là del tablet poi ci sono altre foto di mia sorella al liceo una palma va bene altre foto di mio sorella al liceo in inghilterra altre foto di mio sorello e qua i teenagers sempre teenagers teenagers in tutte le parti ovviamente hanno fatto vedere qua il gaston dal mau quella dei teenagers non so se ve lo vedevate questa della novela però spero di sì altri teenagers poi qui non vi ho fatto vedere mi sono dimenticata qua c'è un po' di roba c'è una cuffia due cerchietti una chiappa sogni e niente questa è tutta la mia stanza questo è un disegno che ha fatto l'ex di mia sorella quando era ragazzina questo è un quadro cioè questo quadro mi spaventa cioè questo gatto non lo so ha gli occhi sempre indemoniati non lo so mi fa paura infatti lo vorrei togliere poi queste altre cose cioè qua ci stanno tutti i miei cd dell'era paleolitica proprio cd vecchi high school musical diciamo Miley Cyrus Jonas Brothers diciamo un po' tutti i cantanti poi se volete vi faccio vedere pure tutti i cd che ho tutti i cd vecchi che ho e niente ragazzuoli e ragazzuole questo è tutto spero che vi sia piaciuto se è così ovviamente mettete un bel like iscriviti al canale e commentate se volete la make up collection si la make up collection vi faccio vedere tutto quanto ciao 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 ciao